Buongiorno a tutti da Immobiliare Porto Mantovano. Ne ricordarvi che se dovete vendere o affittare il vostro immobile con la nostra agenzia potete farlo senza spese di commissioni. In questo video oggi mi voglio rivolgere a tutte le persone che stanno desiderando un nuovo immobile, un immobile ad alto risparmio energetico che gli possa permettere di vivere la loro casa in modo più confortevole e anche più economico. Volevo infatti mettervi a conoscenza delle proposte in corso di costruzione e quindi sul nuovo che stiamo proponendo tramite la nostra agenzia. Parliamo di case in classe energetica prevista come minimo A3 o A4. Ci sono rimasti principalmente quattro tipologie, con giardino, quindi appartamenti con giardino, appartamenti con terrazzo, attici o villette. Per tutte queste tipologie per il momento è ancora possibile effettuare delle personalizzazioni interne, quindi nella disposizione e nelle finiture. Una cosa molto importante, se per acquistare il nuovo immobile dovete a vostra volta vendere la vostra casa, ci occuperemmo noi di tutto facendo in modo di far combaciare le tempistiche di acquisto con quelle di vendita. Vi ricordo che nel caso dovete vendere la casa, come dicevo all'inizio del video, per quella operazione non dovreste corrisponderci nessun tipo di commissione pur ricevendo il servizio completo. Vi lascio in descrizione i nostri contatti, non esitate a contattarci.